Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con Watch Dogs e continuiamo con la nostra missione. Siamo qui vicino al nostro primo rifugio e pare che qui ci sia proprio la prossima missione. Figlio di Troia, cazzo di affare del Merlot. Va bene, Damien. Vediamo se ti ha sfuggito qualcosa. Proprio lì. Merda. Ma che... Ehi! Sono io! Mi hai chiamata tu! Cazzo. Ho troppe cose in testa. Già. Ok, vieni qui, dai un'occhiata. Lei chi è? Non lo so, il file è danneggiato. Come posso riprodurre questo video? No, è impossibile. Ti serve l'originale. Sto facendo una ricerca sul tuo accesso al CDOS. È di questo che volevo parlarti. Senti, non credo che lui ne sappia nulla. Se ne sarebbe vantato. Di chi parli? Forse lei è un indizio. O no. Devo essere un passo avanti a lui. Sei nei guai? Un indirizzo IP? Sì, me l'ha dato lui. Puoi scoprire di chi è? Cos'è questa storia? Aiden, rispondimi. Non farò niente finché... L'ha rapita, Clara. Sta... sta... Usa mia sorella come ostaggio. Oh, cazzo. Quello che hai rintracciato? Sì. Damien. Damien Branks. Io... Non posso aiutarti. Devo andare. Ne riparliamo dopo, ok? Quando hai finito. Che succede? Vieni qui. Che succede? Copri le orecchie. Occhio. Prendi il drive! Vai! Che cosa fai? L'ho presa! Via, via. No, cazzo. No, dobbiamo salvarla. Ah, vai, 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 subito. Eh, no. Non si passa, eh. Proteggi. Occhio. Dov'è la tua auto? Di qua. L'ho presa. L'ho presa. Il balcone. Vai, ricarica. Eh, sì. Ci sono quelli, oh? Aide! Mi insegna del motel. Così. E' il barco. Ti tocca, vai! Ah! Vai! Anche Clara Non se ne accava niente male Ah, eccoli Occhio Chi è? No, no, no Ah, siamo riusciti solo No, 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 no Non potete andare troppo in giro Clara Mi sta arrivando un altro Ok Un altro c'è Un'esplosione Eh, mi spiace Occhio, occhio, ci sono i cecchini, cazzo Andiamo a fare anche noi cecchini Un altro Blackout Un altro E Che manca È andato Mettiamoci magari in mitra Un'arma un po' più Dov'è Clara? Ci serve aiuto Allora Occhio C'è, raggiungi? Siamo qui per aiutare Non lo so Dov'è? Merda Oh, cazzo, sono tutti qua Stai attenta, Clara Che sono Eccolo No 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 No, eh Arrivano altri Che sono Ah, dove cazzo Chi è? Ricarica Ancora un paio Occhio Clara Tu sei giù, eh Uno Uno Ok, vai Ora Via, via Troviamo sta macchina Dai Allora E raggiungi di qua Non c'è nessun altro Occhio Via, via, via Vai, sali in macchina Qui ci penso io Ah, se ne va via lei Ma cosa fai? Vai via Oh, cazzo, noi Scappa No Oh, sono lì Cazzo Vai, 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 vai Ti ho via l'arma Che Ora si spaventano Qui i cittadini Sono tutti di là Ah, c'è una macchina Via, 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 via Dai, dai, dai Sali, sali, sali Eh, no Prendiamo questa Però sembra un po' meglio Ok Vai Oh, mi spiace Mi spiace un sacco Ma Non ha l'idroguida Sta macchina Ok Ammazza che agguato Ci hanno fatto Eh Ah, ok Bene Abbiamo salvato la pelle Anche stavolta Ci chiamano ancora? In tv parlano di una sparatoria Al motel Owl Non fatevi andare via Come tutti Quando mai ho fatto Quello che fanno tutti Era una battuta Non ci sono più abituato Goditela Non capiterà di nuovo Ho perso la mia rete Mi serve equipaggiamento Non mi riguarda Non hai voluto fare gioco di squadra È un tuo problema Cavatela da solo Ma fai presto Mi servi concentrato È bellezza Tuo fratello vuole parlarti Aiden Jax Jax sta bene È al sicuro Dove sei? Non lo so Fa freddo Mi hanno tenuta sempre bendata Ho paura Aiden Lo so, Nikki Vengo a prenderti Conosco Damien Non è pazzo Non ti farà male Però Stai attenta In che senso lo conosci? Mi ha rapita Lo ha fatto per arrivare a me Cosa? Tempo scaduto Oddio Ma che le hai detto? Poverina È in lacrime Damien Ripassamela Se vuoi continuare la chiacchierata Segui l'indirizzo IP E portami qualcosa di utile Ciao ciao Bene È viva Per ora Ehi In un posto freddo Forse è all'aperto Allora faccio parlare Così forse scopro Dov'è Però anche l'altro è un hacker Quindi Saprà il fatto suo Va bene Ok Prendiamoci un attimo Di pausa E Va bene Questa missione È stata Portata a termine Con successo Vi ringrazio per aver Visto questo video E ci vediamo con il prossimo episodio Di Watch Dogs Ciao a tutti Ciao a tutti